Ancora una volta, ciao ragazzi, bentornati su Diversity, ciao Anna Ciao Ci mancano soltanto due branch da fare, la boss battle che abbiamo deciso di lasciare per ultima e il puzzle Ora, il puzzle a me sta facendo già venire la voglia di tornare indietro e non utilizzare il bonus per quello che è stato utilizzato Perché a quanto so è parecchio difficile, parecchio difficile Quindi noi abbiamo già provato prima, abbiamo fatto il primo di questi livelli e ci abbiamo messo un po' a figurare come dovesse essere fatto Ora, col senno di poi è abbastanza semplice, peccato che io non mi ricordi di nuovo come cazzo si faccia Io sì, io sì, io sì, ricordo Allora Si devono mettere i dischi in un ordine Oltre i pulsanti Ma mi sa che i pulsanti non vanno premuti Aspetta, allora Vabbè Ehm, ah, com'era? Dimmi l'ordine Allora, aspetta Tu non li mettere, dimmi solo l'ordine Nero Nero Viola Viola Bianco Bianco Arancione Sì E azzurro O era il contrario Oh oh Eh Ah Beh, in sostanza Non si accendono le luci Ah, il primo qual'era? Nero Quello rotto? Sì, ok Praticamente il senso è che lui ti diceva Ti dava sti indizi Ehm, con i dischi musicali Il secondo qual'era? Viola, ti prego, mettilo Sì, questo è parecchio brutto Ok, viola Eh, non si è acceso niente No, viola, viola Non, questo qui è È che io ho un texture pack Ok, due è questo Poi il tre qual'era? Il bianco Bianco Il tre era il bianco Il quattro era l'arancione No, azzurro Io mi ricordo arancione No, avevi ragione No, no L'arancione è l'ultimo Ce l'hai tu l'azzurro Io non ce l'ho Sì, ce l'ho Metti Ok Ok Quindi praticamente il senso è che tu devi mettere sti cosi in ordine Ora Ehm Ah, tu li metti e io premo i bottoni Mi sa che bisogna fare per forza così Sì Ok Ah, primo è nero Nero e io premo Ok Vai, secondo Viola Viola E io premo Terzo Bianco E io premo Quarto Azzurro E io premo Ultimo Arancione E io premo Ok Ok Ehm Imbecilli noi Non si era aperta poco fa perché era già aperta Noi abbiamo già fatto questa quindi era già aperta Siamo dei geni Andiamo avanti Abbiamo fatto anche questa quindi anche questa sarà già aperta Ve la riassumiamo molto brevemente Cosa bisognava fare? Bisognava premere sti pulsanti a cazzo di cane Finché non si accendevano tutte queste luci qua A quel punto una leva finiva qua E noi la si poteva raccogliere E qua siamo arrivati al punto dove ci siamo fermati Ci siamo fermati perché è abbastanza complicato qui quello che cazzo bisogna fare Praticamente si entra in questa stanzetta qua no Si finisce qua dentro E qua dentro su sta cesta ci stanno scritte delle parole che ora io non leggo Ecco e ora la leggo bene La prima parola che c'è scritta è weight Noi abbiamo anche provato a fare il pavimento di lana uguale a quello di fuori Ma poi ci siamo resi conto che non ha alcun senso Ora io guardando poco fa però Mi è venuto in mente Mi è venuto in mente che Weight è anche il nome di un disco Qual era il colore del disco? Se non ricordo male era l'azzurro Quindi tu che hai ricevuto i tappeti Metti l'azzurro lì dentro L'hai messo? Si Si l'ho messo Ora ce li ho io Blocks A quanto mi pare di intuire Anche Blocks è un disco musicale Qual è l'arancione? Si si dovrebbe essere l'arancione L'ho messo poco fa Ok Terzo Terzo è Moll Ti ricordi il colore di Moll? Mi pare verde Moll No No era il viola Vai metti viola Andiamo un po' Si Successivo è Stal Nero? No Si 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 forse era Si perché uno nero era quello rotto Però era Non è Stal Si 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 dovrebbe essere nero Vedi un po' Si Oh Strad Strad Blu No Strad Verde forse L'abbiamo usato prima Qual era? Rosso Bianco mi pare Sicura? Si l'abbiamo messo prima nella sequenza Era questo? Non mi apre più la cesta Si è buggato tutto? No e cioè Stai buttando i tappeti a terra Io Eh hai i tappeti che ti ronzano vicino Eh non mi apre Oh Che cacchio Ah madonna 11 L'11 è nero Si è quello rotto E quindi grigio Ehm no sempre nero dovrebbe essere Ho provato nero Oh si 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 E ora Che cavolo è? Eh upon the C'è scritto insert sbarrato E poi upon the floor Upon the floor? Tu hai ancora i tappeti? No Io ne ho solo uno marrone Ok Upon the floor Prova a metterlo a terra Vicino a una di queste aperture Ehm No Prova di qua No Prova sulla sandstone Da qualche parte No Eh Dov'è il tappeto? Dove sta? Anna non mi Dov'è? Qui Aspetta Ehm Eccolo E non me lo ridà più Non me lo fa prendere Oh cazzo Si è bugato Oh me l'ha ridato Me l'ha ridato Senti io proverei a metterlo Nella cesta Oh oh Siamo tornati all'inizio Aspetta 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 Rifacciamo nell'ordine Weight Weight Arancione Azzurro Era 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 azzurro Si era azzurro Ma che sta allaggando Che non mi apre cose Eh mi sa che sta allaggando Un pochino Oh che cazzo Allora Weight era azzurro Si Poi Blocks Arancione Si Poi Moll Moll Era Oddio Viola Viola Poi Stal Nero Stal Era nero Eh ce li hai tu Ce li ho io Strad Strad Oddio Oddio non mi ricordo più Ehm Bianco Ehm Undici era Nero Undici era nero Ok siamo di nuovo qua Ora Mettendocelo dentro Non va Prova a metterlo vicino Allora Vicino a dove dovresti entrare Tipo qui Qui dove sono io Spostati Sì Eh De Oh Oh Eh Che cavolo Eh Ehm Allora room 1 Che cacchio vuol dire Cosa vuol dire room 1 Forse ti riporta indietro non lo fare Ho del gran Oh pecore È una pecora Qui È carina Mi guarda Cosa devo fare Dove devo portarla Forse se ti muovi Eh ti segue Eh sì Ho il grano Dove devo andare io Falla mettere in una dei recinti Tipo boh Quello che ti ispira di più Ora non mi guarda più Ehi Oh Anche è carina Eh Eh Anna Eh Non mi sta cagando Oh c'è una sola Oh Brava picorella E adesso Devo prendere un'altra Credo Sì Oh è rosa Ma non è che c'è un ordine particolare No Eh si è buggato Ok Ok Premimi il bottone tu Io le trasporto Oh non ho più il grano Affanculo Io lo voglio il grano Oddio ce n'è due adesso Eh Aspetta Vieni qui Ok Oh quella è preso fuoco Anna No ho preso fuoco Ok ok Perché Eh Eh Era troppo facile Credo E forse dobbiamo trovare No aspetta Forse è successo Perché ne abbiamo prese due Insieme Che cacchio Vuoi vedere Che praticamente Casualmente Lancia delle fiamme Dobbiamo riuscire a farle entrare Senza prendere fuoco Mi sa Oh Di qua Di qua Oh Oh Pecora No Qui Pecorella Pecora No Eh ho rotto Eh per forza Ma tanto rotto Ah senti io vado di sotto No Aiuto No ho preso fuoco la pecora Aiuto Sono entrappolato Eh però è entrata l'altra pecora Aspetta aspetta Eh però se adesso ci sei tu dentro Non può uscire la pecora Eh no Vieni pecorella qui Eh ok l'hai bloccata Vai un'altra No hai se bloccata Anna Stupida pecora Aspetta aspetta Vieni Vieni qua Mettine un'altra Eh ho capito Ma adesso lì dentro ci sei tu Aiuto E mettila in un'altra no Sei una pecora Ce n'è due di là Mettila di là Eh pecora Non mi segue Sta guardando te Dammi il grano Vieni Aia Aiuto Oh oh E' andata a fuoco una pe... Ehm Aaaaa Credo che questo... No Facci passare Affanculo Eh Aiuto Anna Anna c'è casino qua Eh lo so Stanno facendo baldoria Basta Oh Niente Non ho indovinato Credo Ah qua ci sta Staserie di colori Nero Viola Bianco Azzurro Arancione Allora Per me questo è rosso Giusto E io metto rosso Sì L'ha preso Boh Vabbè Questo è bianco O grigio O grigio Allora 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 Ritorniamo Allora qua rosso Qua grigio Qua Bianco Ah ho messo giallo Togliti Sì 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 Allora Qua E ora non ce li ho tutti Anna vai via Vai via Via Ok metto qui Sì sì ok Ok Allora Rosso Grigio Bianco Viola Giallo Prima siamo riusciti a far comparire delle lettere Però c'è Hai visto prima che è comparsa la M Forse partiamo da qua Magari Ah giallo Viola Bianco Grigio Rosso Nessuna lettera E che abbiamo rotto qualcosa qua M Oì Di nuovo Ma M cosa Micellium È l'unica M Ok Micellium E poi Aspetta Non proviamo a non fare niente Tipo magari M Niente Proviamo a mettere rosso Poi giallo Poi bianco Meno Questa bianca è quarzo Questa qui tecnicamente Veramente È uscita anche la E Ib Comunque questa è la prima Dovrebbe essere la La roccia del land Cioè la La cosa del land Ah questa è l'unica Ah questa è l'unica M Aspetta Allora questo è il micelio Questo è l'unica Questo è l'unica Questo è il micelium Questo è quarzo Questa è la B Ah Ok Allora proviamo Blu Light blue Ferma Ehi Ma formano la parola Biom Biom È vero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.